Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny 2 in questo nuovissimo video news in cui voglio parlarvi per la prima volta e questa volta non con un leak della nuovissima espansione che arriverà quest'autunno per Destiny, di ciò che sostanzialmente darà inizio all'anno 4. Perché questo? Perché ieri Bungie per sbaglio ha pubblicato su Instagram il teaser della nuova espansione e sebbene sia stato prontamente nascosto in realtà il link è ancora disponibile, ma per facilitarvi il tutto ve lo metto direttamente a schermo in questo momento, dura davvero pochi secondi e appunto come vi dicevo poco fa è soltanto un teaser, non è il trailer, di fatto però anticipa l'arrivo di esso, previsto per il 9 giugno, quindi a tutti gli effetti il 9 giugno tra appena una settimana sapremo quale sarà il futuro di Destiny. Comunque immagino che questo teaser verrà comunque ricaricato nel giro di qualche giorno, probabilmente hanno deciso di attendere il 9 giugno perché così prima possono almeno presentare la prossima stagione. Ma perché è importante tutto ciò? Ve lo spiego subito. In questi pochi secondi si vede Eris su un mondo innevato e questo mondo innevato dovrebbe essere proprio Europa, uno dei satelliti di Giove, più volte vociferato nel corso degli anni tra un leak e l'altro e che finalmente dovrebbe arrivare con questa espansione. Era prevedibile, questo sia chiaro, però non era mai stato ufficializzato e cosa ancora più importante. Vi ricordate che qualche mese fa portai dei video su alcuni leak sul futuro di Destiny? Ecco, in quei leak veniva menzionato esattamente questo satellite. Questa chiaramente potrebbe essere anche soltanto una coincidenza, potrebbe però essere anche un indicatore della veridicità di alcuni di quei leak e di quelle informazioni. Chi lo sa? A questo punto penso che lo scopriremo tutti assieme settimana prossima. Detto questo ragazzi, per quanto riguarda questo velocissimo video news è tutto. Come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e il vostro gradimento e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!